Vediamo se riusciamo a girare questo video dopo gli acquazzoni, dandy che si scrolla e tutto il resto. Benvenuti e bentornati amici FNAUTI, io non mi sono dimenticato di voi questa settimana, anzi abbiamo lavorato per voi perché abbiamo allestito la nostra prima mostra collettiva che vi svelo già è una figata pazzesca ma di questo però ne parleremo meglio a fine mese quando uscirà il secondo numero della nostra fanzine e dove lì vi racconteremo tutti quanti i particolari. Per adesso però vi dico in anteprima che tutti quanti, nessun escluso, state ricevendo un sacco di complimenti ma su questo io personalmente non avevo nessun dubbio. Ora vi chiedo di iscrivervi al canale e fare tutte quante quelle cose che si fanno normalmente su YouTube come cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi video, mettere like e commentare con mi hanno detto che ti piacciono i ragazzi, col ciuffo mi hanno detto che ti piacciono i tipi come me e io sto diventando sempre più stupido, però preparatevi in questo video perché in realtà quello che voglio fare è sfidare un'altra idea preconfezionata della street photography perché c'è un luogo comune, molto diffuso, secondo cui una foto di strada per essere tale, per essere considerata street, deve per forza includere le persone. Ecco, cari amici, vi dico che questa è l'ennesima puttanata che sento dire quotidianamente. A volte possiamo rimanere intrappolati in questo concetto pensando proprio che dobbiamo necessariamente catturare volti e figure umane per essere dei veri e propri street photographer, quelli arrembanti, quelli che vanno lì sparati con la macchina fotografica in faccia alle persone. E lo ammetto, anche io sono caduto in questa trappola centinaia e centinaia di volte durante le mie sessioni di fotografia di strada. E purtroppo però sono caduto in questa trappola proprio per le idee sciocche sulla street che sono vere come la regola per cui i cani odiano i gatti, per cui il gelato si mangia soltanto l'estate, per cui i comunisti si mangiavano i bambini, quelle regole per cui Nino D'Angelo era solito copiare le canzoni, come ha fatto con i Beatles e i politici, sono tutti quanti corronti. Forse queste ultime due sono vere. Però stasera voglio svelare la verità. E infatti vi dico da subito che è assolutamente possibile praticare la street photography senza che appaia negli scatti nessuna persona. Io lo so che può sembrare difficile da accettare, specialmente quando ci si trova a navigare in un mare di regole nella fotografia. E sebbene le regole siano fondamentali per noi, anche per assimilare i principi base della nostra passione, è altrettanto però importante saper piegare queste regole e saperle infrangere, soprattutto quando sono delle stronzate. La street photography infatti è soltanto una questione di saper catturare l'essenza dell'umanità. Io so anche che adesso voi potete storciare il naso e prendermi per pazzo se vi dico che può esserci la presenza umana in una fotografia anche se non ci sono esseri umani. Può sembrare un paradosso e rischio io stesso di passare per un alieno che viene da un altro pianeta, però credetevi, fidatevi. Noi uomini siamo capaci di lasciare il nostro segno, il nostro marchio ovunque e spesso non c'è neppure di chi andare molto orgogliosi. La presenza umana si manifesta in tanti modi, non soltanto con l'immagine di un essere umano fisico nelle fotografie. Quindi se partiamo da questa prospettiva, immortalare l'essenza dell'umanità senza includere persone nelle fotografie può essere molto più semplice di quanto si pensi. Quindi restate fino alla fine, così magari non mi considererete più molto pazzo. Oppure siete diventati pazzi anche voi, però sarete dei pazzi streeters bellissimi e soprattutto bravissimi. Per provare a spiegarvi come si fa a fare street photography anche senza le persone voglio fare un tuffo nel passato e parlare dei grandi fotografi, dei grandi nomi della street, come per esempio Agé. Lui è conosciuto per i suoi archivi fotografici che documentavano Parigi e gli intorni. Agé ha cattolato infatti la città in tutte quante le sue sfaccettature, dalle strade vuote agli interni dei negozi, fino ai monumenti. Ecco, nonostante le figure umane fossero spesso assenti nelle sue fotografie, lo stesso hanno trasmesso un forte senso di presenza umana. Oppure pensiamo anche a William Eggleston, un pioniere della fotografia a colori. E anche se molte delle sue fotografie includetevano persone, ha comunque un incredibile talento nel trasformare i soggetti comuni, come un lampione o un parcheggio, in opere d'arte straordinarie di street photography. E poi ancora per esempio c'è Stephen Shore, che è noto per le sue fotografie di paesaggi urbani e rurali in America, conosciuto proprio per la sua abilità di catturare la bellezza e l'unicità nelle strade vuote, negli edifici e nei paesaggi. E poi c'è ancora Sor Leter, che era anche un pittore, e proprio per questo motivo è stato un pioniere della fotografia a colori. Lui ha realizzato tantissime immagini in cui gli elementi urbani, il gioco di luci, di colori e di riflessi, erano i veri protagonisti delle fotografie. E per finire poi c'è Meyerowitz, conosciuto sì per le sue fotografie di strada che includono le persone, ma anche un ricco corpus di fotografie che documentano il passaggio urbano senza la presenza umana. Meyerowitz, io lo cito alla fine perché in realtà il suo uso audace del colore ricorda molto quello di un altro fotografo in particolare, molto importante, che è Fred Herzog. Ed è proprio Herzog che prendo come esempio in questo video per spiegare esattamente cosa voglio dire quando presumo un po', dicendo che si può fare street photography senza le persone. Molte delle fotografie di Herzog erano scene senza persone. Eppure, nonostante questa mancanza di figure umane, Herzog è riuscito lo stesso a creare delle immagini eccezionali che esprimono l'esperienza umana dell'epoca che stava documentando. E l'ha fatto semplicemente attraverso la magia dei suoi scatti. Le scene nelle sue fotografie rispecchiano l'esperienza umana e si trasformano in delle rappresentazioni straordinarie di street photography. Herzog lavorava con una pellicola, la Codacrom, una pellicola a colori, in un'epoca in cui il colore era ancora considerato quasi un tabù nella fotografia documentaristica e quindi potete anche immaginarvi le reazioni di chi lo guardavano. Diciamo, quanto meno, quanto mai li definiva audaci queste sue fotografie. La magia della fotografia di Herzog però sa tutta quanta in una combinazione di due fattori. La sua straordinaria competenza in termini di composizione e di colore e la sua capacità di cogliere la bellezza nell'ordinario. Con l'aiuto di questa pellicola della Codacrom, che era anche una pellicola a bassa sensibilità, quindi richiedeva dei tempi di esposizione più lunghi, Herzog ha sviluppato un approccio lento, quasi osservativo alla street photography, molto diverso dallo stile frenetico a cui siamo abituati adesso e che già allora stava prendendo il sopravvento. Questo ritmo lento, riflessivo, ha permesso ad Herzog di padroneggiare l'arte della composizione e la percezione del colore, trasformando perciò scene quotidiane in vere e proprie opere d'arte. Sì, queste scene all'epoca sembravano anche insignificanti, ma oggi invece abbiamo imparato finalmente ad apprezzarli. Io vi ho sempre un po' invitato a catturare immagini senza tempo, a produrre scatti che sfuggono un po' alla datazione e che potrebbero essere stati realizzati in qualsiasi momento, purché ovviamente abbiano qualcosa da dire. E so che rimane questa una sfida difficile per quanto affascinante da affrontare, un modo interessante per stimolare la propria ispirazione. Però oggi voglio fare un passo in più, un passo avanti. Io leggo solitamente tutti quanti i commenti che ricevono e ogni giorno mi ritrovo anche a confrontarmi con street photographer che giustamente sottolineano invece l'importanza di documentare l'epoca in cui viviamo. E su questo io non so dai di torto. Lo stesso Herzog che ho citato poco fa ci ha mostrato quanto sia importante fermare in un'immagine l'ordinario e il banale e questa cosa può sembrare magari insignificante oggi, però nel tempo sicuramente acquista un valore inestimabile. Con questo video però ho proprio intenzione di scoprire insieme che è possibile catturare immagini e documentare i luoghi, le scene quotidiane senza necessariamente includere le persone, continuando però sempre a produrre scatti di street photography. La nostra presenza si riflette ovunque, si riflette in ogni piccolo dettaglio che ci circonda. Può essere un mozzicone di sigaretta, una scarpa dimenticata, un giornale abbandonato su un portico o anche i sacchetti dell'umido attaccati ai cancelli per evitare che vengano magari assaliti dai uditori prima che vengano raccolti. E tutti quanti questi elementi raccontano una storia umana e sono le storie che noi dobbiamo, o almeno dobbiamo cercare di catturare. Da fotografi di strada possiamo cadere nella tentazione di muoverci con velocità, alla ricerca delle persone da fotografare, quelle più belle da fotografare. Ma se rallentiamo, se ci prendiamo il tempo di osservare, di capire la composizione, di capire la nostra macchina fotografica, la street photography può assumere una dimensione diversa e alcune volte anche più interessante. Questo tempo dedicato all'apprendimento ci ripagherà di questo percorso fotografico, quindi non dobbiamo avere paura di rallentare, dobbiamo prenderci il nostro tempo. Io ve lo ripeto, il tempo per la fotografia è un tempo che dobbiamo imparare a goderci e non dobbiamo consumarlo. Immaginate per esempio di imbattervi in una cabina telefonica vuota, con il telefono staccato che magari è penzoloni, o ancora imbatterci in una bicicletta appoggiata alla menopeggia a un muro, a un lampione o buttata a terra. Pensiamo a un ombrello dimenticato sulla sede di un bar, un mazzo di fiori lasciato di fronte a un portone, una dichiarazione d'amore magari disegnata come avrebbe potuto fare Baschi su una strada o su un muro. Ecco, non limitatevi a fermarvi per uno scatto e poi andate via, ma esplorate quella scena da tutti quanti gli angoli possibili. Non essendoci persone nella scena non avete nemmeno la pressione di fare uno scatto veloce e poi scappare. E questo vi permetterà di prendervi il vostro tempo e sarà un esercizio molto utile anche quando poi si tratterà di fotografare le persone. Accendete perciò la vostra macchina fotografica e provate questo mio consiglio e poi mi direte anche se serve o no guardare in questo modo. E poi per fotografare non dimentichiamoci neppure del colore, questo ingrediente speciale che può trasformare una scena ordinaria in un vero e proprio capolavoro fotografico. Se ben utilizzato il colore può donare vita e bellezza a qualsiasi contesto anche se può sembrare a prima vista monotono. Sempre la fotografia di Herzog è un esempio lampante del colore, del suo uso del colore perché le sue immagini risplendono di colori e di vita e attirano lo sguardo di chi sta guardando. Ma pensiamo anche al nostro italianissimo Franco Fontana che è famoso per i suoi paesaggi estratti e l'uso audace che fa del colore. Per esempio nel suo esercizio del rosso Fontana utilizza il colore rosso in un modo dominante per creare un'immagine che va oltre la rappresentazione letterale della realtà. Le sue fotografie non sono soltanto immagini di luoghi ma sono interpretazioni astratte che giocano con la luce, la forma e proprio con il colore. Nell'esercizio del rosso il colore non è soltanto un elemento decorativo ma dove diventa proprio un vero e proprio soggetto dalla fotografia. La tonalità rossa domina la scena attira immediatamente l'attenzione dell'osservatore. Le forme astratte e questo uso audace del colore le danno alla fotografia un senso di profondità di tridimensionalità e sfida la percezione tradizionale dello spazio e della realtà che siamo abituati a conoscere. Puoi utilizzare anche tu il colore per creare un effetto emotivo per evocare quasi una risposta in chi guarda. In questo caso il rosso può simboleggiare una serie di emozioni e di concetti come l'amore la passione, la forza o anche il pericolo. Il blu evoca la freddezza la calma, il silenzio, la pace e il verde magari l'equilibrio e così via per tutti quanti i vari colori. C'è proprio una scienza che si occupa di questo argomento ed è la cromoterapia e possiamo rubare a questa scienza qualcosa per capire come il colore può influenzare la nostra percezione e interpretazione del mondo. Come Fontana usa il colore per andare oltre la rappresentazione visiva letterale e dare un senso di atmosfera di sentimento e di emozione rappresenta un modo audace e provocatorio per utilizzare il colore usando proprio il suo potenziale per creare delle immagini che sono sia visivamente affascinanti ma anche emotivamente coinvolgenti. Ecco, tutte quante queste opportunità sono ovunque dobbiamo soltanto armarci di un po' di pazienza e imparare ad osservare con attenzione ma vi garantisco che ne vale la pena. Anche l'interazione tra la luce e le ombre gioca un ruolo fondamentale nella creazione di immagini bellissime. Personalmente quando mi avventuro alla ricerca di scene fotografiche preso sempre una particolare attenzione a come la luce e le ombre si fondono oppure si contrappongono nell'ambiente. Pianificare anche una sessione fotografica o una giornata di sole sicuramente apre un mondo di possibilità perché l'evoluzione delle ombre cambia durante la giornata cambia la scena e quindi non esitate a ritornare in un posto che inizialmente non vi ha colpito perché magari vi può meravigliare al secondo tentativo. Tutti quanti questi suggerimenti sono soltanto la punta dell'iceberg di quello che la street photography senza le persone può offrire. Il nostro genere fotografico è assolutamente variegato e limitarsi a un solo linguaggio un unico modo di fotografare è un vero peccato e in alcuni casi è un vero e proprio reato. Io l'ho detto più e più volte e non mi stancherò mai di ripeterlo non esiste il modo giusto o sbagliato per fare street photography. Non dobbiamo limitarci a fotografare soltanto le persone dobbiamo esplorare le possibilità che ci vengono offerte dalla street che possono arricchire in maniera esagerata la nostra esperienza anche il nostro modo di esprimerci. Se poi sei alle prime armi oppure come abbiamo già visto hai un po' di paura un po' di ansia con la street photography non devi sentirti neppure obbligato a puntare la fotocamera contro le persone devi prenderti il tempo per esplorare e per sperimentare. Io stesso quando esco a fotografare tendo sempre a scaldarmi un po' a entrare nella scena proprio attraverso degli scatti alle scene immobili per guadagnare poi sicurezza durante la giornata non devi sentirti obbligato a scattare per forza come Bruce Gilden oppure come il nostro Matarazzo per intenderci ognuno può trovare il suo linguaggio quello con cui si sente ovviamente più a suo agio. Ok, io spero che anche questa volta i miei vaneggiamenti ti abbiano fornito degli spunti e delle idee per esplorare il mondo della street photography e ti abbiano liberato anche dalle intimidazioni di quelle che vengono definite regole e che invece per me sono soltanto delle costruzioni ignoranti e stavolta non ho neppure esagerato con le parolacce. Se questo video ti è piaciuto iscriviti e fammi sapere cosa ne pensi al riguardo e come sempre non vedo l'ora di vedere i tuoi scatti. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima! Grazie a tutti